6 a 1 buonasera ragazzi portogallo 6 vizzer 1 6 a 1 ha segnato chiunque meno male che Ronaldo ha partito dalla panchina perché se no oggi si sparavano dei record, dei record, del record del record, del record inquadravano sempre lui pure quando era in panchina già sta anno che ha partito dalla panchina chissà cosa è successo non lo so l'avrà preservato, l'avrà litigato con l'allenatore non ho idea ma sta Svizzera ma sta Svizzera sapeva che doveva fare gli ottavi di finale perché secondo me si è dimenticata che c'era il mondiale una delusione pazzesca non c'è stata gara questi hanno fatto praticamente forse no la Svizzera a parte il gol che altre cose hanno avuto? io non mi ricordo hanno avuto forse un altro paio non hanno fatto niente la difesa con un colabrodo facevano cosa volevano un contropiede sempre c'è praterie cross in mezzo nessuno le prende infatti Pepe 2 a 0 vabbè a parte per primo gol anche lui ma come cazzo ha fatto lì Rodriguez lì come cacchio si chiama lì Gonzales come cacchio si chiama quello lì che manco sopra che cacchio era ha fatto un tiro proprio nell'incrocio dei pali sul primo palo proprio una roba impossibile poi Pepe lì di testa se no lo marchi a voglia a voi a volte quello ti segna sempre la sua specialità quella 40 anni ancora fa sti salti pensate e poi dopo la partita è andata proprio addirittura il fenomeno di Leao segnato il 6 a 1 altro fenomeno meno male che non ha segnato Ronaldo io speravo pensate a che livelli sono io talmente non lo sopporto che speravo che non segnasse perché se no non parlavano d'altro questo non è il merito di Ronaldo è il merito del Portogallo quindi non dite il Portogallo di Ronaldo no perché Ronaldo può benissimo stare in panchina non lo si è visto non lo si è visto a parte che di fronte aveva una Svizzera che è proprio una Svizzera assente non si è proprio vista cioè non ha fatto non lo so non ha fatto la scampagnata questi qua cioè se andate lì ma se no ma siamo andati dagli ottavi l'obiettivo minimo era quello e adesso vediamo un po' il Marocco se sarà in Grammy che pensa gli va pure bene il Portogallo con una fronte alla Spagna quindi di per sé però col Marocco magari potrebbe avere più difficoltà non ne ho idea tutto può succedere sono partite che di cui insomma quarti di finale non lo so bisogna vedere anche a livello psicologico il Marocco come ci arriva comunque esaltato c'è forse un po' di paura un po' di comunque sei già arrivato a un passo importante c'è passi di nottuno passi di secondo e passi pure cioè arrivi pure in quarti di finale non so sicuramente il Portogallo avrà più tra virgolette fame perché comunque arriva a un punto che ho quest'anno mai più il Marocco forse uguale ma comunque con una diversa come posso dire una diversa approccia alla partita perché comunque è già tanto che sei arrivato lì ecco in quello Marocco Marocchini sono già arrivato lì un bordello per l'estate mamma mia sembra sembra l'Italia solo Marocchini Torino e Milano piena di poi tra i fuochi di artificio che poi tra un po' è capodanno quindi ci sono già dovesse vincere il mondiale in Marocco non immagino l'Italia del nord sarà proprio in festa ma festeggerei pure io a sto punto perché comunque una squadra diversa dal solito che vince è l'unica outsider quindi sinceramente mi aspettavo di più dalla Svizzera perché la Svizzera poteva essere un po' più complicato appunto magari il portogallo passava lo stesso però con fatica in realtà proprio pronuncia la se ha uno comunque vediamo adesso quindi quarta di finale ci si riposa due giorni quindi domani e dopo domani io farò il video gameplay domani non mancate Olanda Argentina quindi quarta di finale Olanda-Argentina forza Argentina ma se vince ecco mi spiace che è l'unica due squadre di cui tifo che possono si incontrano che possono vincere si incontrano e poi abbiamo Brasile ne vanti a ricordare Brasile-Croazia non lo so Inghilterra-Francia big match big match derby europeo e poi Marocco Portogallo e Marocco che è l'outsider di di queste otto non lo so due no due quattro sei otto sì sono otto sì non lo so cosa sperare perché dovesse passare anche il Marocco andrà poi affrontare un'altra pancia Inghilterra insomma e il Marocco deve avere proprio deve andare senza paura senza pensieri senza pensieri dubito cioè non lo so poi nel calcio tutto è possibile però i mondiali sono diversi sono diversi quindi secondo me dovesse passare il Portogallo e lì ma magari non so l'Inghilterra l'Inghilterra è una squadra che tutto fumo niente a rosso quest'anno chi lo sa ogni quattro anni lì lì che era tra i favoriti poi crolla sempre sul più bello quindi io prevedo come semifinale Francia-Portogallo sinceramente e l'altra come semifinale spero l'Argentina Croazia dubito che passi può succedere in miracolo Argentina-Brasile Francia-Portogallo le più banali ma secondo me queste sono le probabili poi ovvio che spero spero non avvenga però l'Argentina-Brasile in semifinale non è mai successo nella storia sarebbe carino dovesse capitare quest'Olanda qua non lo so è più scarsa rispetto alle altre edizioni dei mondiali quindi poi magari la più scarsa può vincere il mondiale però il mondiale è diverso dalle altre competizioni quindi non lo so non lo so trama a vedere ragazzi allora con i commenti di partita ci si riposa un po' ho fatto due video al giorno manco io sapevo di riuscirci domani non mancato il gameplay Olanda-Argentina e poi è festa ponte domani già i milanesi si fanno il ponte con Sant'Ambrogio Maria Resiliatrice Maria Resiliatrice no non è Maria Resiliatrice Santa Maria Vergine vabbè l'8 dicembre è festa c'è il ponte insomma per chi riesce a fortuna per chi riesce si fa un bel ponticello abbiamo delle grandi partite questo weekend comunque ragazzi a presto chiedevo al canale mi raccomando e statevi bene a domani ciao